Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Tadonk IPEC, delle versioni da 27 litri uomo e 25 litri donna degli zaini da trekking giornaliera che non hanno nulla da invidiare a marchi più blasonati. Ma iniziamo subito e vediamo le precedi fette all'interno dell'accensione completa. Cominciamo subito con lo schienale che si presenta come uno schienale a rete e quindi favorisce molto la ventilazione e la traspirabilità. È uno schienale quindi che rende questo zaino perfetto da utilizzare nelle giornate più calde, in particolare chiaramente quelle estive. La stabilità è garantita dalla struttura metallica presente nello zaino che quindi garantisce un'ottima stabilità. Quindi anche a pieno carico avremo il pieno controllo dello zaino senza alcun tipo di problema. Passando invece alla fascia lombare, questa è fatta con un materiale molto traspirante, anche la fascia lombare risulta essere davvero tanto tanto traspirante. Nella parte di destra non troviamo nulla, non c'è nulla, è una parte completamente vuota. Nella parte invece di sinistra troviamo una tasca rete. Diciamo che una tasca rete aggiuntiva sulla parte di destra, visto che non c'è nulla, la si poteva anche mettere. L'unica cosa di questa fascia lombare è che non è pretensionata. Questo vuol dire che praticamente la fascia lombare ci aiuterà sia a trasportare del peso, ma non a un peso così alto. Diciamo che quando raggiungiamo i 6-7 kg con questo tipo di zaino siamo già al massimo, anche perché poi è anche un 27 litri, quindi è difficile anche andare a riempirlo ulteriormente. Nella parte anteriore invece poi la fascia lombare è chiusa dalla classica cinghia, che ci permette di poter chiudere lo zaino ed anche a pieno carico non ci dà nessun problema. Possiamo dire che la parte di schienale e fascia lombare è molto classica, però molto traspirante, fatta bene, e farà sì che questo zaino potremo utilizzarlo anche nelle giornate estive più calde. Per quanto riguarda invece gli spallacci, questi sono abbastanza classici, fatti con lo stesso materiale della fascia lombare, quindi anche loro molto traspiranti. Hanno una sezione abbastanza normale, non è né troppo grossa né troppo piccola, lavorano molto molto bene anche a pieno carico, e poi sulla parte anteriore troviamo sempre la classica chiusura per andare a scaricare un po' di peso anche sulla zona pettorale. Passando invece alla parte laterale dello zaino, questa è speculare da entrambe le parti, quindi troviamo una tasca a rete nella quale riporre la borraccia, è una tasca ampia, comoda, ci possiamo mettere anche le borracce un po' più ingombranti, e una tasca che ci permette anche di prendere la borraccia e riporla in completa autonomia. Poco più in alto troviamo poi una cinghia di compressione che può essere utilizzata per comprimere lo zaino, oppure ci può tornare utile nel caso in cui volessimo trasportare degli oggetti particolarmente lunghi. La parte posteriore vera e propria poi di questo zaino è composta, come si può vedere, da una grossa tasca a rete. Molto utile perché possiamo andare a riporre in questa tasca diversi oggetti, anche un secondo strato, una giacca, è una tasca sicuramente molto utile, e poi abbiamo naturalmente la possibilità di trasportare i bastoncini, solo da una parte, quindi non sono sdoppiabili, però possiamo benissimo trasportare esternamente i bastoncini. Per quanto riguarda le aperture di questo zaino, ce l'ha solamente nella parte superiore, per intenderci non troviamo aperture a mezza ad una tasca inferiore, sul lato nulla, essendo lo zaino piccolo si può aprire solamente nella parte superiore, e l'apertura superiore è veramente molto classica, quindi da un cordino ad andare a tirare per chiuderlo e poter andare a ritirarlo per aprirlo. Da questo punto di vista, possiamo dire, abbastanza classico, i 27 litri del modello uomo, 25 donna, sono reali, comunque ci si riesce a trasportare un sacco di materiale. Da questo punto di vista, possiamo dire, è veramente uno zaino molto molto classico. Per quanto riguarda il cappuccio, questo ha due tasche, una esterna e una interna. Quella esterna è senz'altro la più capiente, dotata di zip, facilmente richiudibile, molto pratica per riporre tutti quegli oggetti personali che vogliamo avere anche a portata di mano. La tasca interna, invece, è un po' più piccola, anch'essa dotata di cerniera, ed è quella all'interno della quale troviamo il rain cover. Per quanto riguarda, invece, la chiusura del cappuccio, qui abbiamo trovato una piccola nota dolente, perché la chiusura è fatta con una semplice clip, ma la parte di cinghia che va a chiudere questa clip passa all'interno della tasca rete e non è fissata. Questo cosa vuol dire che quando noi andiamo a mettere dentro, magari, un secondo strato, una giacca, questa clip va sempre a finire in fondo allo zaino. E dovremmo sempre star lì a cercarla, a mettere dentro la mano proprio per dover trovarla, perché va sempre a finire nella parte bassa dello zaino. Diciamo che bastavano veramente due punti di cucitura di questa clip nella parte superiore di questa tasca rete e in quel modo non si sarebbero più avuti problemi che la cinghia andava a cadere in basso. Per quanto riguarda il comparto acqua, troviamo innanzitutto le due tasche laterali per riporre una o due borracce in base alla vostra necessità. Poi troviamo, per chi invece utilizza la sacca idrica, lo scomparto interno per appunto gestire la sacca. E infine troviamo appunto il rain cover che è appunto incluso nello zaino. Infine per quanto riguarda i materiali, questo Ike Pack è fatto con due tipi di nylon, un 100 denari nella parte superiore per renderlo abbastanza leggero e un 210 denari nella parte inferiore per renderlo un pochino più robusto. È una combinazione vincente perché fa sì che lo zaino pesi un chilo alla fine e come peso per 1,27 litri ci sta. Sicuramente dei materiali che magari non hanno un alto numero di denari, ma dei materiali che lo rendono sicuramente molto leggero. Sono dei materiali che alla lunga comunque non ci daranno problemi, l'unica cosa magari fateci attenzione proprio di non sbatterlo completamente contro le rocce, perché non è quel materiale super super resistente. Arriviamo infine alle conclusioni per questi due Ike Pack di Tatonka, perché entrambi li troviamo online all'incirca a un prezzo di 130 euro. Noi ve lo consigliamo? Direi proprio di sì perché sono dei zaini da escursionismo molto classici, molto semplici, che però non hanno niente veramente da invidiare ad altri tipi di zaini di marchi anche più blasonati. Sì, noi ci siamo trovati veramente molto bene, classici zaini tre stagioni, molto areati. Che dire, è stata veramente una sorpresa, perché anche da un marchio così poco conosciuto come può essere Tatonka, ci sono dei prodotti come questi zaini che sono veramente molto validi. E detto ciò, non è la speranza sia stato esauramente esastito anche per questa recensione, vi ringraziamo per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!